Portata a casa mercoledì scorso la Costituzione di parte civile nel processo di Teramo a carico dei vertici di strada dei parchi, INFN e Ruzzoreti, a seguito dell'incidente dell'8 e 9 maggio 2017 che comportò il divieto di consumare acqua in quasi tutta la provincia di Teramo, l'osservatorio indipendente sull'acqua del Gran Sasso, promosso da WWF, Legambiente, Mountain Awareness, Arci, Pronatura, Cittadinanza Attiva, Guardie Ambientali d'Italia, Gadit, FIAB, CAI e Italia Nostra torna sull'allarme lanciato qualche giorno fa dal commissario Gisonni che ha lamentato di non essere stato messo fino ad oggi nelle condizioni di operare come avrebbe voluto per la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, essendo di fatto privo di supporto tecnico e addirittura di una sede. È evidente che è necessario individuare dei luoghi dove collocare gli uffici a Roma, dice l'osservatorio, ma c'è bisogno di una sede anche in Abruzzo al fine di garantire una vicinanza al territorio. È veramente paradossale, continuano gli ambientalisti, che da un lato si sia proclamata un'emergenza e dall'altro si continuino ad accumulare ritardi. Nel frattempo, secondo l'osservatorio, restano senza risposte una serie di domande. La prima, ad esempio, se il lavoro del commissario partirà dalle conclusioni della delibera dell'Aggiunta regionale che ha previsto interventi e una somma necessaria per affrontarli di 170 milioni di euro o se invece si ripartirà da zero. Dubbi poi vengono sollevati sulle modalità con le quali si intende procedere per garantire il diritto all'informazione e alla partecipazione ed infine sulla tempistica di allontanamento delle sostanze pericolose incompatibili con l'acquifero stoccate nei laboratori di fisica nucleare sotto il Gran Sasso, che dovrebbero essere rimosse entro il 31 dicembre del 2020. Operazione questa, che secondo l'osservatorio, comporterà però sicuramente tempi più lunghi per la sua complessità e perché ad oggi agli ambientalisti non risulta alcuna azione volta a progettarne lo spostamento.